Convivo dentro la realtà, c'è un dolore che è insuperabile, quando lo anticipiamo, quando lo viviamo da chiusi, reclusi dentro casa, quel dolore ci vince sempre. Il dolore psicologico. Esatto, psicologico, psichiatrico, il dolore di chi vive in una dipendenza. Poi quando, ed è stata questa l'enorme scoperta dentro Bambini Gesù, vedere famiglie che lottavano per i propri figli, vedere come la realtà offra dei contrappesi rispetto a quel dolore, vedere quelle famiglie comunque aggrapparsi alla relazione con altre famiglie, la capacità che l'uomo ha di fare comunità e rete quando è toccato da un certo destino. Diciamo, l'uomo in pace, l'uomo che vive dentro il proprio recinto, dentro la propria narrazione, l'uomo che questi temi non li tocca. Ma ti faccio una domanda molto banale, che però forse qualcuno si starà facendo a casa. Rispetto a quel dolore, ti sei anche detto, forse il mio dolore alla fine, rispetto a quello che può soffrire un genitore a cui si ammala un bambino, a cui muore un bambino, perché ci saranno stati anche dei bambini che non ce l'hanno fatta. Assolutamente. Ecco, non ti sei detto, ma in fondo io perché mi lamentavo? Che è la frase banale che tutti dicono a chi non sta bene psicologicamente. No, perché ho grande rispetto del dolore psicologico e psichiatrico e dolore interiore e spesso è furioso come un dolore esterno. Anche se non c'è una causa scatenante, questo vorrei che fosse chiaro. Cioè, il dolore psicologico, non è che uno dice di che ti lamenti? Non è quello. Cito un poeta che adoro, Raymond Carver, io sono un uomo fortunato, non ha cause esterne. Diciamo, abbiamo visto Aldamerini, esistono persone che convivono rispetto alla natura dell'uomo un po' più a contatto con temi che pesano, che poi finiscono nelle poesie, che poi finiscono nelle opere. E quindi finisci a scrivere, cosa succede? Che poi dopo comincia a scrivere, cioè ti dicono, ti dice Francesco Silvano, che era il direttore generale del Bambino Gesù, tu volevi raccogliere dei scritti. Lui ti dice scrivi tu. E tu di fronte a questa sfida cominci a scrivere e sei diventato lo scrittore. Sì, diciamo, io avevo già pubblicato su rivista, io proposi al presidente del Bambino Gesù, che per noi era la grande eminenza grigia, per noi operai, perché io facevo l'operaio e il facchino, al Bambino Gesù, e proposi prendiamo i poeti dell'area del Mediterraneo, facciamo una grande antologia. Lui mi rispose, io prima della laurea in economia, per sbaglio, mi sono laureato in lettere. La sua idea è una castroneria, si è presentato come poeta, lo scrivi lei. Scrivi? E l'ho scritto. In 28 giorni, 30 poesie, ed è diventata la strena natalizia dell'ospedale ai benefattori istituzionali dell'ospedale. E questa è quindi anche una grande storia di Daniele, di possibilità di ripartenza sempre. Poi, vabbè, lavori anche come fai il corso di sceneggiatura, lavori con Andrea Tare Fiction. Lavoravo, sì. Lavoravi, sì, lavori, era un presente storico. E adesso sei a libreria con questo fame d'aria, il protagonista Pietra è un padre con un figlio autistico che si chiama Jacopo, a 18 anni, ed è appunto affetto da una forma grave di autismo, perché hai scelto di raccontare questa storia che, ripeto, non è autobiografica, ma in qualche modo si ispira al tuo vissuto. Io negli ultimi 12 anni ho avuto modo, per mio figlio, che ha avuto un destino diciamo più benigno rispetto all'autismo a basso funzionamento che racconto nel libro, ho avuto modo di frequentare i centri di neuropsichiatria infantile, quindi di vivere un'altra disciplina che sta all'interno della psichiatria. E ho sentito la necessità, il dovere morale di raccontare le famiglie che vivono l'autismo da abbandonate perché, in primis perché l'Italia è un paese che destina pochissimi fondi alla psichiatria per adulti e ancora meno alla neuropsichiatria infantile, a fronte di numeri che sono a tre cifre. Perché il resto del Carlino di tre settimane fa, parliamo della nostra Emilia Romagna, dal 2011 al 2021 i disturbi del neurosviluppo sono aumentati del 250%, parliamo della nostra Emilia Romagna. E ho voluto raccontare questa storia per questo, per questo abbandone, perché io credo che uno scrittore abbia il dovere di raccontare quelli che non possono raccontarsi. Esatto, tu dici scrivo per chi non può farlo e scrivi anche per quelle famiglie che non hanno aiuto dallo Stato e racconti insomma che la disperazione, tu l'hai vista la disperazione di famiglia ai quali veniva diagnosticato una patologia grave del proprio figlio e sapere di non poterlo aiutare, credo che sia la cosa più terribile. Peraltro anche a te dissero, no? Un medico ti disse, su figlio autistico, come dici, non so, c'è raffreddore? Sì, poi per fortuna la diagnosi fu contraddetta da quelle successive. Ma questo è un paese che vive ancora di immigrazione sanitaria, è un paese in cui le tante terapie domiciliari che devono essere somministrate a un bambino affetto ad autismo sono tutte a pagamento. C'è già tanto nel giro di un anno avere una prima valutazione neuropsichiatrica su un bambino e non esiste neanche più la divisione tra il magnifico nord e il pessimo sud. La Lombardia ha tempi, come prima chiamata, non diversi dal Lazio, dalla Toscana. Il che ovviamente non ci rallegra affatto. Peraltro tu scrivi appunto i figli, i genitori dei figli sani non sanno niente perché questo comunque è un romanzo e parla dei rapporti familiari. A te ti ha salvato la famiglia, vero? Sì, ma ha salvato lì, dico anche che c'è un sapere che conosce soltanto chi viene messo alla prova dal destino, ad esempio attraversare una strada, che è un'attività assolutamente consueta, banale, ma mette in atto talmente tante competenze da quella psicomotoria, viso spaziale e per tanti ragazzini che diventeranno adulti attraversare una strada sarà un obiettivo che magari non raggiungeranno mai. Come allacciarsi un paio di scarpe, come fare così? Daniele, un'ultima domanda. Quando ripensi al ragazzo di 20 anni che si è svegliato in un ospedale psichiatrico legato al letto, come pensi a quel ragazzo? Vorrei dirgli hai ragione, avevi ragione e continui ad avere ragione, malgrado oggi da 48enne, padre di due figli, continuare a vivere esposto a certi temi continua ad essere fonte di fatica, ma triste chi vive l'esistenza senza mai sfiorare questi temi perché tanto poi questi temi ti verranno a riprendere loro. Grazie Daniele Mencarelli, fame d'aria, leggete perché vi racconterà, oltre che una storia importante, anche probabilmente un pezzo di voi stessi. In fondo la letteratura è questa, la capacità di poter capire qualcosa di noi, per chi scrive e soprattutto per i tanti, e sono tanti, che ti leggo.